buongiorno e bentornati nel nostro canale su youtube in questo video vedremo una lente con base una lente molto buona di ottima qualità che permette di lavorare con le mani libere è molto ampia come lente ha una bella base e la lente si può direzionare va bene anche per leggere libri giornali grazie